allora piccioni adesso si torna a casa volete sapere cosa mi hanno regalato per natale allora una mia carissima amica mi ha regalato un libro di scritto da un autore giapponese Yuki Mishima che ha delle previ storie al suo interno davvero bello quel libro poi mi hanno regalato un campanello per la bici e un lucchetto anche quello per la bici facciamoci investire poi cosa posso dirvi un libro un atlante simpaticissimo l'ho visto è davvero bello che racconta un po' tutte le cose che ci sono con il mondo sia l'olotorfico sia il livello architettonico è davvero davvero bello con anche una dedica poi poi mi hanno regalato un libro game sui cavoli della tavola rotonda grazie Angela e poi beh io mi sono preso questo portacellulare spero che rega e che non mi faccia volare il cellulare a voi cosa mi hanno regalato a proposito mi regalo un con una nuova bicicletta da corsa usata però messa molto meglio di questa adesso possiamo sprint spero che si senta quello che sta dicendo è la prima volta che faccio una cosa del genere mettiamo il rapporto più conci o no ok mi è domarcia mamma mia non so se si sente quello che dice con essendo comunque l'ha aperto e avendo avuto comunque macchine intorno a me e traffico insomma nel caso si vede spero che questo format di video vi piazza salpizioni vi saluto